Una conferenza a stampa nella sala consigliare del Comune di Isola dell'Iri per presentare l'adesione dell'amministrazione comunale al progetto per la mobilità garantita gratuita. L'iniziativa ha visto l'approvazione dell'iter progettuale in tempi brevissimi da parte della città delle Cascate. Parliamo di questo progetto da parte privata, pubblico privato diciamo, che nello spirito di questa amministrazione che ha sempre avuto grande attenzione per i più bisognosi, aiuta molto a lavorare meglio e a soddisfare le esigenze di mobilità e quindi dando più libertà e più soddisfazione a chi ha bisogno, dagli anziani ai diversamente abili e da chi non ha mezzi per muoversi. Mobilità è tutto, mobilità è libertà. Sono valori che noi racchiudiamo in questo progetto. Siamo qui ad accogliere questo progetto di impatto sociale, di importante validità per andare a sostenere tutte quelle fasce fragili che sono presenti sul nostro territorio. Quindi adesso noi andremo a valutare insieme ai servizi sociali quelle che sono le criticità che in qualche modo vedranno poi impegnare il mezzo concretamente sul territorio. Attraverso questo progetto la PMG, società unica in Italia certificata nel settore che vanta collaborazioni con più di 700 amministrazioni comunali in Italia mette a disposizione del comune un mezzo di trasporto in forma totalmente gratuita per anziani, disabili e persone che ne hanno bisogno. Il progetto che stiamo attivando con il comune di Isola dell'Iri durerà 4 anni ed è l'ennesimo che noi stiamo facendo nell'ambito dei comuni della provincia di Frosinone. Siamo molto presenti e questo grazie anche alla sensibilità di tutti gli amministratori della provincia di Frosinone, dei comuni della provincia. In maniera particolare poi il sindaco di Isola dell'Iri e il consigliere delegato ai servizi sociali, devo dire che in tempi estremamente brevi hanno compreso l'importanza e la valenza che questo progetto avrebbe potuto avere per i cittadini necessari che necessitano dei servizi di Isola dell'Iri e hanno immediatamente attivato tutte le procedure interne per deliberare e per sottoscrivere con noi la convenzione. Noi contiamo di consegnare il veicolo al comune di Isola dell'Iri in un tempo tecnico di 4 mesi, giusto il tempo per informare gli operatori economici della zona del progetto come è strutturato, come si attiverà, raccogliere le sponsorizzazioni degli operatori economici che vorranno aderire a questo progetto e dare un segno al comune di Isola dell'Iri della loro solidarietà. Perché solidarietà è una bellissima parola ma a volte si disperde così in piccoli gesti. Il compito di PMG è quello di cercare di coagulare, di organizzare questa solidarietà e produrre un effetto concreto che è quello di un pulmino che allevia i disagi di chi purtroppo non può spostarsi per problemi psicomotoni. Il progetto ha durata di 4 anni e coinvolge diverse parti, l'ente pubblico, la società privata, gli imprenditori locali a favore dei soggetti svantaggiati. La PMG ora inviterà tutte le imprese del territorio a partecipare mettendo il logo della loro azienda sulla macchina. Un progetto che si basa su una legge nazionale che è la 328 del 2000 che in pratica dà la possibilità di collaborazione tra il pubblico e il privato. Gli imprenditori locali e le attività produttive del territorio vengono invitate a partecipare a questo progetto e da mettere la propria immagine commerciale su questo veicolo che poi trasporterà anziani e disabili del territorio dove loro ne hanno un reale bisogno, dal semplice prelievo di sangue a cose più impegnative come chemioterapie, dialisi e quant'altro. Grazie. 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 Grazie.